Allora, Antonio, aprite il dibattito e parla, per favore, del passaggio del turno, ok, della Juventus e della Roma. Sì, del passaggio del turno, poi anche della Fiorentina e soprattutto della grandissima delusione. Della grandissima delusione che bisogna anche puntualizzare un po' di robe, perché poi si fanno i complimenti e giusto quando si fanno i complimenti a Sarri bisogna fare un appuntino. Allora, l'Europa League, perfetto. Allora, la Juve, penso, tra andate e ritorno, parto da un presupposto, ha meritato di gran lunga la qualificazione, perché mi pensavo meglio il Friburgo, probabilmente anche dei meriti va andata la Juve, perché poi possiamo dire gioca bene, gioca meno bene, tanto la Juve non ci aspettiamo che giocherà bene, però tra andate e ritorno, passato il turno, meritatamente, eccetera. Hanno ieri la fortuna, dove una partita bruttissima all'inizio, hanno la fortuna di andare in vantaggio su rigore, espulsione. Secondo tempo? Non so, non so ovviamente usare aggettivi forti a sto giro qua, dove è passato, ha fatto due gol fuori casa, eccetera. Però io, meno male che almeno per la prima volta, però secondo me l'ha fatto più per furbizia che per altro, l'allenatore a Lega, cosa dici? Il secondo tempo abbiamo sbagliato tanto, eccetera. Non abbiamo sbagliato il secondo tempo, il secondo tempo è quello che tu fai sempre, ormai da un anno e mezzo, eccetera. Però non ha fatto bene il secondo tempo per la partita, però ha sofferto zero, ha sofferto zero perché ha incanalato bene la partita, ha incanalato nel verso giusto, erano solidi. Il Friburgo, a dire la verità, mi pensavo molto, molto, molto meglio, anzi ha fatto molto meglio a Torino, che ha fatto poco, che in casa da loro. Juve meritato, avanti, adesso sarà uno scoglio diverso lo Sporting e poi ne parleremo dopo. Per quanto riguarda la Roma, eccoci qua. Allora, la Roma, andata, ha vinto una partita, le occasioni che ha avuto, le ha sfruttate, ha vinto due a zero. Vai a San Sebastiano, io giuro ragazzi, poi ovviamente Bobo, so cosa ne pensa, Bobo può dire ai suoi compagni, venite, venite. Io mi faccio sostituire come una volta ho fatto a Catania, Bobo, poi ti raccomando, poi vado avanti. Sai cosa ho fatto a Catania? Allora, giochiamo col 3-4, 2-1, con Mazzarri. Questo non l'ho raccontata mai, tra amici io voglio raccontare tutti, perché tutti devono caricare su di noi. Arrivo a un certo punto, Lele. Sai quanto stavamo dopo 20 minuti? Catania a due, Sampdoria a zero, Montella a centroavanti, io centro-sinistra, che dovevo marcare il mediano centro-sinistra, e Bellucci centro-destra. Dopo 20 minuti, sai quante palle avevo toccato? Zero. Ho preso, me ne sono andato nello spogliatoio, c'ho le immagini. Montella, dove vai? È venuto il finale nello spogliatoio, giocavamo in nove. Mi sono rotto il cazzo, non tocco la palla, mi sono andato, mi sono stato sostituito. Dopo 22 minuti. Mi sono rotto il cazzo. E Vincenzo ogni tanto, tra di noi, quando ci vediamo, lo dice. Minuto venti. Catania a due, Sampdoria a zero. Sono stato sostituito, sono andato via. Perché mi rompevi il cazzo, avevo toccato. Zero palla, loro ci hanno fatto una testa così. Io, mezza punta di sinistra, io devo essere libero, non devo marcare, non mi rompe il cazzo. Marcare. Cosa devo marcare? Mediano, barca, marchiamo bene. Ci giriamo la patria, non ho fatto una rumba così. Tornando al discorso della Juve, della Roma. Cavolo. Il primo tempo si è difesa, il secondo è stato ancora peggio. Non è che è arrivata al cerco di centrocampo. Tutto davanti alla sua linea difensiva, davanti alla sua area di rigore. Se noi andiamo a vedere, nello specifico, ok, siamo contentissimi che la Roma è arrivata. Spero che con la Juve arrivino in finale. E tutti felici e contenti. Bene, è andata bene. Lele, però, fra andata e ritorno, le occasioni che ha avuto la Real Sociedad, io vado a vedere, per come ha giocato e le occasioni che ha avuto, la Real Sociedad meritava, la Roma no. Però poi ci ritroviamo che qualcuno, giustamente, fa passare. Il genio della lampada, più culo che anima, va lì, si chiudono tutti in difese. Qualcuno ha anche scritto, stiamo ritrovando la nostra fase difensiva. Ma noi non dobbiamo ritrovare la nostra fase difensiva. Noi dobbiamo andare dietro al calcio, che è un'ispirazione per noi. Ieri ha fatto una partita solo ed esclusivamente difensiva. La palla più lunga era fuori dallo stadio, che si lanciava. Una roba, a dir poco, scandalosa. Poi dici, ma perché Tizio non ha preso la palla o Caio non ha preso la palla? Ma sono destinati a giocare da soli, a fare la guerra. Uno contro sette, due contro otto. Come puoi accettare il tuo attaccante o il tuo giocatore di bala della situazione? Che sta facendo bene, perché la Roma gira attorno a Di Bala. Io penso che lui si rompa i coglioni, perché lui deve toccare 50 palle il primo tempo, 50 il secondo tempo. Se Di Bala, che ha più qualità della Roma, tocca 100 palle, 10 ti crea dei problemi agli altri. Può fare due gol, può fare due assi, può creare qualcosa per gli altri. Se poverino tocca 6 palle in 90 minuti, spiegami cosa deve risolvere. Gli metti in grande difficoltà. Poi arriva a un certo punto, complimenti a tutti i ragazzi, hanno fatto una partita di sacrificio, eccetera. Devi al discorso su altre robe. E alla conclusione, la Roma è passata. La Real Sociedad, che ha avuto 70 occasioni tra andate e ritorno, e il possesso palo di media, 70%, la Real Sociedad, che meritava, è a casa. E la Roma va avanti. Questo è il fine della partita. Sia dalla Juve, che soprattutto della Roma. Perché la Juve, tra andate e ritorno, ha meritato. La squadra era molto meno forte, e sul campo ha dimostrato che la Juve era più forte. La Roma, che ovviamente, Mourinho, cosa puntualizza? Eh, ma abbiamo fatto fuori la quarta squadra della Liga. Caro Mourinho, il giocatore che lì guadagna di più, un milione e mezzo. Il giocatore che a te guadagna di meno, è un milione e mezzo. Tu sei il terzo Montengaggi della Serie A. Hai una squadra con 12-13 nazionali. Di là sono tre nazionali. Un giocatore che ha fatto la storia del Cade, David Silva, ma c'ha 37 anni. Allora, io dico, cerchiamo in modo che fino ad oggi può bastare, io parlo in particolar modo di Juve e Roma, può bastare oggi. Però tutti i giorni non sono uguali. E tutte le partite non sono uguali. Per poter fare lo step successivo a poter vincere l'Europa League, la Coppa dei Campioni, serve altro, ma molto, ma molto, ma molto altro. Già dalla prossima partita. Volevo dire una roba, Anto. Lo sai che ho cercato di osservare quello che dici su Di Bala, sui giocatori, se si rompono il cazzo. Invece, cavolo, hanno sposato il credo dell'allenatore. Di Bala, io lo vedo, che non c'è la palla tra le linee. Guarda dove si deve posizionare in fase di non possesso, in fase difensiva. Quindi, io questa partita la giudico che la Roma ha voluto fare questa partita quello che sa... Cioè, lo sa fare bene. Lo sa far bene difendersi. Cioè, ha meritato, secondo me, lo 0-0 nel fare quello che ha voluto fare. E i giocatori spostano questo progetto. Se il primo è Di Bala... Hai capito cosa hai detto, Nick? Hai capito? È una parola giusta, ma gravissima. Hanno meritato lo 0-0. Sì, hanno voluto questa partita. L'hanno fatta e l'hanno fatta bene. Non ha meritato lo 0-0. No, no, Nicola ha detto una cosa, però è gravissima. L'hai ottenuto. L'hai ottenuto, però... L'hai ottenuto va bene, meritato no. Nick, meritato pari del merito. Il meritato deriva dall'espressione del gioco. Ma lei è anche gravissima. E' una cosa che vuoi fare. Ma è gravissimo. Se tu concedi 7-8 gol, non l'hai fatto così bene. Ma siamo contenti tutti. Però occhio a differenziare il meritato e l'ho ottenuto, perché è diverso. È diverso. Il meritato magari è esagerato. Però tutti i giocatori, il primo Di Bala, lo fanno al mille per mille. perché mi sono messo lì ad osservare. Allora, su questa cosa, quando Nick è finito, volevo entrare io, perché anche io... No, no, vabbè, ho finito. Nel senso che poi, alla fine, la Roma ha saputo anche giocarla la partita di andata. Comunque, era sempre Real Sosedad. È stata diversa. È stata diversa. Sa fare anche... Però, secondo me, nelle direttive che dà l'allenatore, quella era la partita da fare. Tutti spostano il progetto e tutti l'hanno fatto. Le sue partite, le direttive su quali sono? Che tutte le partite dobbiamo difendere e poi andiamo avanti. A cercare di partire in conto. Ok, perfetto. Ok, ho capito benissimo. Ma è così. Allora, un attimo sulla Juve, perché è giusto. Perché il Friburgo era molto più debole della Juve, però della Juve Under 23. Non di questa Juve. Il Friburgo era più debole della Juve Under 23. Ma la Juve ha prodotto 50 occasioni da gol in due partite. Ha vinto. Non ha mai rischiato. Il Friburgo non può mai essere all'altezza della Juve Under 23. Quindi quando gioca con la Juve prima squadra non può competere neanche se la Juve si impegna. E lo si è visto. E lo si è visto. Altra cosa che voglio dire è questa. Sono contento che la Juventus intesa come popolazione di tifosi juventini non abbia festeggiato. Perché non c'è niente da festeggiare. la Juventus per parole che io non condivido nell'espressione ma il concetto può avere un senso. Cioè io non condivido quando l'allenatore dice che l'Europa League serve perché così non t'alleni e quindi ti diverti. Non condivido perché invece la Juve avrebbe tanto da allenarsi tanto da allenarsi da provare da sviluppare da crescere perché non è cresciuta. Ma da un punto di vista di questo tipo di partite sicuramente la Juventus ha recuperato giocatori per esempio ieri ho trovato il gol di Vlaovic che è stato cattivo come piace a me nell'atteggiamento l'aveva fatto era stato giustamente annullato l'ha fatto su rigore e io sono contento quando un ragazzo così trova l'ispirazione e trova la sensazione dei giorni migliori mi piace io sono contento ci tengo lui capito veri quindi lui sta lavorando ed è forte quindi va al segno quindi sono contento sono contento quindi quindi la Juventus come ampiamente detto i tifosi non possono essere contenti anzi devono essere e li capisco molto molto rammaricati perché la Juventus andiamo a vedere l'altra competizione la Juventus poteva andare in finale in questa Champions League se la Juventus avesse fatto un girone un girone non sufficiente dignitoso la Juventus si giocherebbe il posto in finale di Coppa dei Campioni perché andava dalla parte del Benfica e ho detto tutto vedete un po' le due parti invece la Juventus ha fatto un girone non dignitoso e deve vincere col Nantes e col Friburgo detto questo dato che l'Europa League se la vince è un valore ora inizia l'Europa League della Juventus contro lo Sporting ed eventualmente contro il Manchester United adesso mi voglio godere la Juve perché adesso la Juve entra in un contesto di sfide dove io la valuto e mi piace perché mi piacerebbe che riuscisse a battere lo Sporting che era fatto la più bella partita del semestre insieme all'Arsenal una partita che non doveva mai finire per quanto è stata bella e dopo eventualmente c'è il Manchester United quindi ecco lì che voglio vederla la Juve questo è per la Juve per la Roma allora per quanto riguarda la descrizione tecnico-tattica ineccepibile quello che ha detto Antonio è un peccato semplicemente non potersi raffrontare perché dentro quando uno rimuove una critica o fa un'analisi lo fa più volentieri se la squadra ha vinto come la Roma che è passato il turno è più bello perché gli animi sono più distesi hai comunque portato a casa il successo quindi dentro il successo portato a casa è lì che verrebbe più a livello proprio di stimolo da chiedere ma che come hai preparato ma se il piano era stare in area di rigore 90 minuti se era guadagnare ogni minuto in più che ti posso dire è un po' di tempo per arrivare al risultato se avevate la partita magari come andata a sbloccarla su un calcio d'angolo perché se no sul gioco non c'era altra possibilità cioè quello che ci ha fatto vedere non c'è stata tanta possibilità quindi sarebbe stato più bello poter relazionarsi con una vittoria ma è sempre difficile farlo perché come dice anche Antonio molte volte non è che dici troppo ad addentrarti nel calcio quindi devi prendere cosa? lo spirito devi prendere il risultato però noi che non ci piace essere come gli altri perché rispettiamo gli altri quindi la community facciamo delle analisi indipendentemente dal risultato quindi nelle due partite la prima partita in una partita con due stili diversi la Roma può aver meritato la seconda partita il Real Sociedad ha strameritato quindi portata a casa la vittoria benvenga anche da festeggiare però da valutare perché è lo stesso discorso che facevamo dell'Inter l'altra sera festeggiare certo l'italiana va avanti ma valutare perché non si può far passare per eccellente una cosa che probabilmente non è stata così meritata poi la portiamo a casa mentre invece quindi sono d'accordo anche sull'analisi mentre invece sul discorso dei calciatori di come vivono la richiesta dell'anatore devo dire questo tu Nick hai parlato da un punto di vista tecnico-tattico che lui dice una cosa e loro la fanno io invece sai cosa dove la voglio virare dal punto di vista del comportamento allora c'è una differenza tra plagiare e convincere plagiare ha un'accezione che suona più negativa perché sembra che gli lavori la testa per forza volta al male questo non lo dico non è giusto convincere cazzo convincere ragazzi a tal punto che io invece di bala lo vedo litigare e non te lo sto dicendo perché mi fa piacere bravo bravo io non te lo sto dicendo perché mi fa piacere però dico questo che l'allenatore con quelle sue caratteristiche che non sono certe di quelle relative a un tipo di calcio secondo me di oggi però dov'è che lui non plagia ma convince a fare una guerra sportiva in campo anche calciatori che dovrebbero fare una guerra tecnica quindi lui convince di bala che la palla mezza mezza da fallo laterale litiga con tutti ma come fa laterale a metà campo non c'è da litigare ogni partita le leo le leo c'è c'è sbagliano Anto le leo 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 è sempre perfetto ma oggi c'è andato oltre la perfezione non so che aggettivo usare per la tua analisi la la evidenza grande lo sai qual è che uno hai detto tutto più che la perfezione quello della Roma l'altro lavora quello del Napoli metti insieme uno come hai detto una plagia eccetera quello che ti pare piace una roba l'altro ci lavora le le dalla notte al giorno uno è un fenomeno l'altro si vende bene ha vinto di più però se tu noi parliamo di calcio di quello che un allenatore dà ai propri giocatori nel migliorarsi nel giocare e nel convincere che la strada per arrivare a Roma è quella dritta e non cercare in modo dentro fuori dentro fuori che poi quella dritta puoi trovare un intoppo e per mille motivi arrivi dopo di quella destra e sinistra destra e sinistra questo è un dato di fatto tu hai fatto un'analisi più che la perfezione e questa è la realtà dei fatti che i nostri amici che ci seguono lo devono capire e lo stanno capendo perché uno è un genio che da zero ha creato 100 sotto tutti i punti di vista tecnico mentale di organizzazione di idee di comunicazione l'altro grandissimo ex grande comunicatore oggi solo amico di qualcuno che lo fa passare come il più grande della storia del calcio come genio del calcio e altre robe e butta tanto fumo e questi qua amici gli continuano a mantenere il culo con sei mani per farlo andare avanti finché vinci la conference league per mille motivi che per me non è una coppa importante però è sempre una coppa vai avanti senza meritare perché poi arriva a un certo punto fanno passare alla gente siamo passati contro una squadra che è quarta in campionato spagnolo siamo arrivati a quarti di finale Europa League con la squadra che c'è no tu sulla carta la Roma era più forte del Napoli oggi il Napoli è la squadra più bella d'Europa la Roma continua ad avere mille difficoltà ma non per via dei giocatori che sono forti per via dell'allenatore che non sa da dove è girato più bella